namaste ciao in questo video ti propongo una breve pratica di meditazione cinque minuti bastano per iniziare a praticare la meditazione farla diventare una buona abitudine costante quotidiana per ritrovare la pace e riconnetterti con te stesso e diciamo ri ri risettarti ri ricominciare poi con con più chiarezza con più energia trova una posizione che sia comoda può essere sotto in terra su una sedia ovunque l'importante è che la schiena sia ben dritta degli occhi puoi avere le mani sulle tue gambe oppure portarle al centro del petto una sull'altra ascolta il tuo respiro e fai cinque respirazioni profonde ispirando ed espirando sempre attraverso le narici facciamo ancora un respiro profondo e poi portiamo la nostra attenzione al nostro cuore al centro del nostro cuore seguiamo le mani sul petto possiamo sentire il ritmo e il battito del nostro cuore seguiamo questo ritmo naturale seguiamo questo ritmo naturale l'unico rumore l'unico rumore l'unico suono importante per noi questo momento esiste solo il battito del nostro cuore sentiamo calore sentiamo calore ma anche una sensazione di familiarità di tranquillità espandersi dal centro del nostro cuore a tutto il corpo la mente si rilassa e il corpo si abbandona a questo momento di pace questo è uno spazio nel quale possiamo sempre tornare e nel quale possiamo rimanere per immergerci nella calma, nella pace e nella tranquillità lasciamo che la nostra mente quindi rimanga con il nostro cuore in silenzio ancora per qualche istante poi mantenendo gli occhi chiusi sentiamo nuovamente il nostro respiro sfrighiamo rapidamente i palmi delle mani per riscaldarli e li portiamo a coprire i nostri occhi sul nostro viso il calore passa dalle mani al nostro viso lentamente riapriamo i nostri occhi riabbassando le mani bene questa è una meditazione molto breve e molto semplice per meditare non servono grandi accessori chiamiamolo così il nostro respiro è sufficiente per portarci nello stato meditativo quindi per calmare la nostra mente, calmare il nostro sistema nervoso e arrivare in quello stato che appunto chiamiamo meditazione quindi questo è un esempio usare il nostro respiro, usare il battito del nostro cuore per calmarci questa meditazione la puoi fare in qualsiasi momento della giornata anche magari ritagliandoti un momento durante il giorno quando senti che hai proprio bisogno di una pausa hai bisogno di resettare tutto la mente è confusa non riesci a magari trovare chiarezza trovare anche una soluzione che può essere davvero semplice hai semplicemente bisogno di fermare e ripartire quindi questo è il modo per ripartire con decisamente con molta più visione con molta più chiarezza quindi spero che ti sia utile puoi trovare altre meditazioni sia qui sul mio canale nella playlist meditazione o sul mio sito lascimiyoga.com dove trovi dei corsi di meditazione per comprendere meglio che cos'è la meditazione e come fare come farla diventare una pratica costante nella tua vita noi ci vediamo alla prossima Namaste